salve dalle macchie delle coserie mi trovo oggi qui a fare alcuni lavori io non porto mai cibo ma porto sempre due cose almeno ecco l'acqua che non può mancare mai due litri d'acqua più avanti addirittura riporterò sempre quasi cinque litri dentro un contenitore che la mantiene fresca ecco e porta anche uno dei miei succhi ecco ovviamente quasi tra anche la frutta di stagione mano mano sempre di più ma questo è un succo di frutta eccezionale vedete di fichi d'intia ecco in queste zone anche tutta la nostra zona della presila sono centinaia e centinaia di tonnellate di fichi d'intia che si perdono io ovviamente non le posso raccogliere tutte però quelle che ho io che più o meno sono almeno mille chilogrammi all'anno le sfrutto sempre vedete qua che roba ecco fichi d'intia un ottimo succo di frutta naturale cento per cento sapete che le proprietà di fichi d'intia sono le migliori il problema sono soltanto i semini per chi soffre di diverticolite addirittura chi non soffre di diverticolite quei semini sono gli spazzini dell'intestino però chi soffre di diverticolite si sconsiglia di mangiarli con i semi allora o le convetture oppure questo ottimo succo di frutta non potete neanche immaginare e oltre che le proprietà che ha varie la grande grande aiuto che dà l'intestino questo succo di frutta ha delle proprietà praticamente riparative quindi provate e credete poi oltre che avere un sapore squisito io lo bilancio anche con succo di limone un po di limone metto pure così abbiamo anche la freschezza del limone è come si dice proprio la post la pastosità eccezionale dei fichi d'intia e vi saluto io bevo mamma mia una squisitezza vi saluto ci sentiamo nella prossima occasione